La prima conferenza mondiale delle donne italiane nel mondo è questo l'obiettivo di Silvana Mangione, vice segretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. È il progetto per il futuro, cioè il progetto di riuscire a far convocare la prima conferenza delle donne italiane nel mondo. Non è mai stata fatta una, siamo sempre state un momento di incontro, un focus, uno spazio all'interno di altre conferenze. Questa volta l'altra metà del cielo, o la prima metà del cielo, decidiamo come vogliamo chiamarla, vorrebbe avere una conferenza tutta per sé per poter mettere a disposizione di tutti quanti della società nostra e di quelle di accoglienza il tesoro di quello che possiamo dare. Diciamo certamente il 2020, al più tardi il 2020, preparandolo nella maniera giusta e quindi preparandolo con preconferenze nei diversi paesi, preconferenze continentali, raccolta di documentazione per arrivare a qualcosa che non sia stantio, sia creativo, sia da una parte una fotografia ma dall'altra una proiezione verso l'infinito.